D'essano particolare apprezzione le dolorose notizie che giungono dal martoriato Sud Sudan, dove ad un conflitto fratricida si unisce una grave crisi alimentare che colpisce la regione del Corno d'Africa e che condanna la morte per fame milioni di persone, tra cui molti bambini. In questo momento è più che mai necessario l'impegno di tutti a non fermarsi solo a dichiarazioni, ma a rendere concreti gli aiuti alimentari e a permettere che possano giungere alle popolazioni sofferenti. Signore, sostenga questi nostri fratelli e quanti operano per aiutarli.